Un calcio di rigore dubbio, realizzato dal barese Federico Pizzutelli, costringe il Bari al quarto K.O. stagionale sul campo del Roccella, che dal canto suo subisce la beffa dei gol nei minuti finali di Città di Messina e Locri, che la costringono a restare in terz'ultima posizione. Inisce 2-1 per i padroni di casa, con la seconda rete stagionale al Bari di Ciro Amelio e il momentaneo pareggio di Feola, che significa 18 giocatori a segno durante la stagione per la squadra di Cornacchini. Nel 4-4-2 iniziale ci sono Liguori e Neglia sulle fasce, Pozzebone e Iadaresta in attacco. La prima frazione e le emozioni arrivano soltanto dalle conclusioni dalla distanza. Prima Neglia su sponda di Iadaresta mette i brividi a scuffia, al 41esimo Amelio con un gran calcio di punizione, sblocca il risultato battendo Marfella all'incrocio dei pali. Allo scadere ancora Neglia ci prova da lontano, ma trova sulla sua strada un ottimo intervento del portiere dei padroni di casa. Nella ripresa Cornacchini passa al 4-3-3 inserendo Mutti, Nannini e Langella per Pozzebone, Quagliate e Liguori. Al Bari viene annullata la rete del pareggio di Aloisi per posizione di fuorigioco, ma al minuto 19 Feola regala l'1-1. Iadaresta prolunga un passaggio di Nannini e il sardo piazza la zampata, che significa pareggio. Pari che permane fino al 48esimo, quando il direttore di gara segna un calcio di rigore per mani in area di Di Cesare, ma dalle immagini è evidente che l'ex Parma ha colpito con la spalla. Pizzutelli realizza e non esulta, il 2-1 non cambia la posizione di entrambe. La testa al Bari ora va a Domenica e al Picerno, primo appuntamento della Puls Cudetto.